Con questi lavoratori, parlate con questi lavoratori, ogni giorno, ogni giorno, nonostante i tagli, nonostante i salari da fame, in ogni affatto, c'è un'interventazione di manodopera, continua, si continua a tagliare, gli infermieri non ce l'ha fatto e chiedono sostegno, chiedono aiuto a questi lavoratori, ma nonostante questo, nonostante questo la regione continua a dire in poca maglia che su questo ospedale verranno inclementati i patti letto, ecco, ecco cosa c'è dietro gli appanti, siamo stifati, siamo stifati perché oggi tutto il mondo si sta accorgendo quello che questi lavoratori ormai da anni subiscono sulla loro pelle, sulla pelle delle loro famiglie, se c'è un'Italia onesta è questa, infani, imparate dalla disperazione ma soprattutto dalla determinazione.